Benvenuti in Master and Servant, io sono Ol, stiamo giocando con Firenze, una partita alla ricerca della Toscana e dell'Italia. Non so se andrà a buon fine, non importa, vedremo. L'ultima partita è andata bene, abbiamo vinto una guerra contro il Papa prendendo Rumagna e Umbria e abbiamo un'aggressive expansion abbastanza pericolosa. Non troppo, però siamo sul 60-70, vediamo Coalition, dove sei? Vabbè sono io. Perché Castigliana? No, Fiorentia. 69, vedete? Quindi potrebbero formarsi delle coalizioni. Lasciamo stare. Abbiamo delle unità fuori, adesso le riportiamo in casa, anzi ricordiamoci di portarle a casa. Abbiamo dei ceti non leali, approfittiamone per prendere anche questo, ok, bene. Poi, rivali, direi Venezia, sì, vai. Poi, tecnologie, siamo messi benissimo, questo è un nuovo parametro Innovativeness che indica, cioè ci dà dei bonus in base a quanto siamo innovativi e non è male. Andiamo a vedere i nostri limiti, due unità in più e due unità in più, benissimo. Allora, facciamolo. Due unità qui e direi di mettere due unità sulle barchette, così li mandiamo a fare trade. Poi, abbiamo dei ribelli, ovviamente, perché dobbiamo aumentare l'autonomia. Fatto. E direi che siamo a posto, così. Qualche soldo da spendere, ce l'abbiamo o lo spendiamo? Vediamo un po' tregue, Napoli, Aragona nel 75, ok. Allora, ci teniamo buoni tutto, tutto quanto, perché prima o poi verrà giù. Ah, ecco qua, che bello. Quindi, è un partner junior di Castiglia, quindi il wedding è partito. Ok. E Castiglia è a capo di tutto. Chissà cosa succederà alla fine della tregua. Forse si ribellano. Vediamo, stiamo a vedere un po'. Se non si ribellano, questo diventa Spagna, quindi diventa un po' pericoloso. Soprattutto avrò un bel casino nel prendere il coso. Il coso, ho detto il coso. Quindi, 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 mi potrebbe far comodo stare dalla parte di Napoli e di Aragona. Perché mi fa più gioco avere l'Italia divisa. Cioè, l'Italia sotto Napoli, no? Sotto la Spagna. Perché se la Spagna nasce, mi ritrovo un qualcosa di 40.000 uomini da dover gestire. Bel casino. Francia è alleata con Scotland e ha l'Austria, Moscovia e Mammalunchi come rivali. L'Austria chi ha come rivali? Francia, Ottomani e Venezia. Ok. Intanto il Papa ha scomunicato l'Austria. Noi mandiamo qualcuno a fare delle chiacchiere. Ok, la tregua è finita, vediamo che succede. E poi pensiamo cosa fare, perché c'è questo problemino non indifferente. Se aiutiamo Castiglia... Possiamo strappare la roba qua, è vero. Però poi lasciamo che sia tutta Spagna. E in ogni caso noi riusciamo a formare comunque l'Italia. Quindi, quasi quasi mi fa quasi comodo avere Castiglia come alleato potente. Castiglia-Austria contro la Francia, poi entreremo qua. Sì, vediamo, vediamo che succede. Ok, qua abbiamo i nostri 14.000 uomini. Sto qui e vediamo qualche anno. Allora, Salisburgo ci chiede di entrare, vai pure. Venezia invece con chi è alleata? Siena, Mantova, eccetera. Siena potrebbe essere una cosa interessante da attaccare. Siena. Siena potrebbe essere molto interessante. Se io mi prendessi Siena... Tenendo fuori tutti... The Knight... Chi c'è? Chi c'è? Facciamo un giro. Vediamo un po' chi c'è. Allora, Anhalt ha 5.000 uomini. Siena ne ha 6.000, mi pare. 3.000, nessuno. Siena non ha nessuno. The Knight... Quanti ne ha? 5.000, siamo a 13.000, siamo già uguali a noi, quindi comincia a diventare un po' rischiosetto. 13.000, e poi abbiamo Mantova e Salisburgo. Salisburgo 4.000, e Mantova, vediamo un po'. Però direi che può essere un azzardo non da poco, 5.000, no, sono un bel po' più di me. Quasi quasi, attendo col Papa. Ah, fermi. Ok, l'Austria ci chiama in guerra. Ci chiama in guerra. Questa non è una cosa brutta. Io accetterei. E poi sfruttiamo Napoli per ottenere dei territori. Disciplina, sì, assolutamente. Ci possiamo permettere, e lo facciamo. Le navi le lasciamo chiuse lì. Andiamo sugli Abruzzi, vediamo che c'è. Stretto di Messina, qualcuno è caduto. Questi stanno andando a casa. Sì, ma non morire. Eh. Ok, è Napoli che si sta ribellando. Io ho perso della flair. Ah, cazzo, vabbè. Uh, tre mercantilismo, sì, sì, sì. Devono difendere Napoli, quindi noi dobbiamo prendere Napoli. Allora, vediamo un po'. Eh, Woresome. Castiglia. Cosa sta facendo? Dov'è? Dove sei? Sei qua? Stanno andando qui. Se io do a Castiglia l'ordine di prendere Napoli. E poi me la prendo io. Oh, aspetto, aspetto di avere Castiglia qua. Tanto, che problema c'è? Loro arriveranno prima o poi. A me sta sul culo aver perso delle navi. Maledizione. Ecco Castiglia che sta arrivando. Brava, brava, brava. Vai su Napoli. Bruciati il manpower. Che non me lo brucio di certo io. Ok, l'Austria non è più scomunicata. Guardate qui gli 11.000 napoletani. Vediamo un po' che fanno. Ci teniamo pronti, abbassiamo la velocità. E poi andiamo in aiuto. Ma di sicuro non ci bruciamo su Napoli. Anche se Napoli mi piacerebbe. Ma me lo posso prendere con una pace separata. Prima però di fare tutto questo, nel dubbio, dimostriamo ai cari napoletani che voglio tutto. Sì, che sono interessato in Capitanata. Sì, che sono interessato. Cra-cazzo. Vabbò. Ok, se voi è entrata in alleanza con l'Aragona. Va bene. Aspettiamo di vedere che fa Napoli. Questa ferma Salerno, se continua lì. Intanto facciamo lavorare tutto. We need a King. Sì, we need a King. Territorio. Possiamo fare un territorio. Emilia-Romagna. Va bene. Non so perché. Core. Romagna. Sì. E possiamo spendere. Sì, assolutamente. Ok. Lassù, lassù cosa sta succedendo? Niente. Aragona è abbastanza ferma. L'Austria è in guerra contro... Contro nessuno. Separatisti. Ok. Sta fanno blockade. Io aspetto che Napoli cada. e poi... Umbria è nostra. Dobbiamo fare un altro core, vero? No. Alzo un po' la velocità, sperando che questo non mi distragga. Napoli si è sposta. Bene. Bravo. Dove va? Ah, ci sono dei nomi. Va bene. Di nobile. Ok. Gain 1 di... Sì. Vai. Eccellente iniziativa. Ok, dai. Andiamo avanti così. Facciamo fare il lavoro giustamente. Cosa succede qua? Castiglia ci ha chiamato... Contro la Francia. Contro la Francia. Sì, accettiamo. Però è brutta sta cosa, eh. Due bandiere uguali. La Francia io me la tengo lontana dalle scatole proprio. Quasi, quasi butto giù l'armato e se deve... Devo perdere. Vediamo un po'. Ma ti devi proprio mettere contro. Ma brutto stronzo. Contro la Francia. Ma guarda te, che cosa ti sei messo a fare. Napoli non cadrà mai, però... Francia 34.000 uomini. Ti schiaccia. 14.000. Ribelli. Napoli, Napoli. 11.000 uomini. Aragona. 16.000 uomini. La vedo brutta. Qua ci sono i ribelli di Napoli. Che cercheranno di andare a Napoli. Dovevo starne fuori. Come no? Sì, sì. Assolutamente sì. Ma che cazzo? Uh, possiamo investire in militare. Sì. Yep. Ok. Romagna, Ferrara, lasciamo tutto dove stanno. Non è un problema. Uh, fermi. Andiamo a partecipare alla battaglia. Dovremmo essere... Siamo in superiorità numerica. Non dovremmo avere grossi problemi, anche se lui ha un 2 stelle. Inoltre dovremmo essere... Non capisco perché è in attacco, però vabbè. Vabbè, perché stavamo facendo un assedio. Rischiamo di perdere. Qui arriva qualcuno... Che... Che cosa fa? Che cosa fai? Abbiamo perso la battaglia di Napoli. Veramente negativi, cioè... È inaccettabile, veramente. Che cazzo. Proprio con la coda tra le gambe, veramente. Cristo. Però i ribelli hanno vinto. Quindi i napoletani dovrebbero essere messi male come unità. 4.000 unità. Vabbè, se i ribelli vincono, in realtà a noi fa solo piacere. Qua, Francia, cosa cazzo vuole? Sta vincendo, non è vero. Non ci crediamo, nessuno ci crede. Guarda qua, che casino. Che gran bordello che hai fatto, Castiglia. Dovevo lasciarti i doveri. Andarti a fare in culo, va. Quindi? Ti attacchi a me? Dove vai? Devo fare io? Devo sbrigarmela? Pare di sì. Pare proprio di sì. Vediamo un po' cosa succede se vado in attacco o contro. Dovrei vincere. Dovrei vincere. Fermi tutti. Napoli ancora lì. Quando arrivo io? Arrivo l'8 di agosto e loro il 13. Quindi in difesa. Pare. Investiamo intanto. E siamo in attacco. Non ho capito perché. Dovremmo arrivare prima, tecnicamente, e vincere. Vabbè. Abbiamo vinto sta battaglia. Ritorniamo su Napoli. Castiglia invece. Che cazzo sta facendo? Sta andando in Francia. Eh, Castiglia, testa di merda. Si può agire così, io dico. Lasciarmi tutto la cosa da fare. Dai. Inaccettabile. Vieni qua. Allora, è successo qualcosa. La conquista delle frande? Va bene. Cosa è successo? Allora, sconfitta. Che suona. Va bene. Non siamo più in guerra con la Francia. Va benissimo. Adesso, per favore, vieni a fare la tua cazzo di guerra. Non è così difficile da capire. L'hai fatta tu. La vieni a combattere. E non rompi i coglioni. Eh. Che non ho tutto il giorno per stare dietro le tue guerre di merda. Mille uomini lì a far niente. Io fermo Napoli. Allora. Allora, cosa sono? Questi sono mille. Mille uomini. Mille uomini. Ne arrivano altri? No. Non è previsto. Allora, che facciamo? Facciamo così. Diamo una mano. Ne ne porto. Porto 12.000. Select this unit con gli... Fermi tutti. Allora, tac. Ne mando via due. Mando due cavallini. No. In realtà no. Mando due di questi. E questo qui va ad attaccare. Quindi siamo in 10.000. Eh, Napoli si è fermato. Napoli mille colori. Ehi. Si è fermato, si è fermato. Grandissima. Army Professionism. Professionism. Se noi stiamo qui... No, stiamo qua. Stiamo giù. A questo punto. Fottiti. 7.000 uomini. Diventano tanti. Allora, qua arriviamo. 11.000 contro 7.000. Dai, andiamo così. Saremo in attacco, chiaramente. Teniamo corsini. E stiamo perdendo anche questa guerra. Più o meno. Sì. Potremmo vincerla. Ma ho dei dubbi seri. Mamma mia. Abbiamo vinto. Mamma mia. Quanto stiamo bruciando. In Manpower. Vabbè, cerchiamo di far cadere Napoli perché io questa guerra smetto anche di combatterla. Ok. Bene, stanno arrivando 16.000 uomini. Non so se la sbrigano loro. Cosa voglio io da Napoli? Non ho diplomatici da mandare. Ok. Allora, fermi tutti. Siena. Diplomacy. Claim. Su Siena. Ok. Togliamo l'uomo. Ok. Bene. Allora, direi che questa guerra sta avvolgendo probabilmente a nostro favore, almeno al momento. Noi ci diamo appuntamento al prossimo, cerchiamo di capire che cosa possiamo ottenere da Napoli. Potremmo ottenere gli abruzzi, assolutamente. E questo ci porterebbe su una coalizione col Papa. Eh, dura. Però vabbè. E vediamo, vediamo che succede. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio. Vi ringrazio per avermi seguito. Come sempre, commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate, cosa volete vedere. E niente, patteggiate per noi. Ciao.